Siamo giunti alla sesta, mezzo meccanico in movimento, solo femmine anziane, il 6, il 7 non corrono. E' una mista, attenzione. Netta favorita, almeno per il momento, Olimpia, che in questa categoria ha già vinto abbondantemente. Via la macchina in velocità. E c'è lotta per il comando all'attacco della piegata Ubaldo sull'errore di Ultimate nei confronti di Thriller con all'argo proprio Olimpia. Poi l'uno di Urasì. 13 e 2 il lancio. E così comanda ora, al completamento della piegata, il numero 5 di Ubaldo Capara. Si completa un quarto iniziale con Olimpia che viene via decisa. 28 e mezzo, freeway con un po' di spesa, ma Olimpia si toglie dall'impiccio e va al comando. Si completano i 600 iniziali. 42,7 sul mio cronometro. E' Cavalli che affrontano in lunga fila indiana la penultima curva, ora con Vincenzo D'Alessandro che può leggermente graduare. Ma tutto sommato viene un mezzo miglio, alea, alea, alei. 56 e 9. E' continuo nella sua andatura notevole, Olimpia. Poi Ubaldo e gli altri. Chilometro bollente, ma bollente veramente. In 1,11,7. 500 alla meta e i Cavalli affrontano la curva finale. Buon margine di vantaggio da parte di Olimpia. Volimpia è in frazione in 14,8 addirittura. Non ammette interferenza con vantaggio netto al completamento della curva finale. Olimpia al comando, totalizzatore che è Borbotto 1,30. Per proprio conto, Olimpia viene via la grande numero 13 di Ulmus e anche il 12 di Vincent & Gloria. Mentre Olimpia appartiene un'altra corsa, buono per il secondo Ulmus con Palomba. Io addirittura 1,57 sul mio cronometro, o meno anche qualche cosina. Con questa vittoria della cresciutissima Olimpia, che da quando è presso la scuderia di D'Alessandro veramente ha fatto passi da gigante. Manini dolci la guida come se guidasse la propria autovettura e quando vuole pigia sull'acceleratore e se ne va. Se ne va, se ne va. 8 per il primo, 13 per il secondo, 12 ma c'è foto con il 5. Quindi, non strappate i biglietti, 1,56 e 7, 1,12 e 9. Signori, un po' di francese ci vuole. Chapeau per questa Olimpia dei fratelli d'Alessandro. Totalizzatore, ripeto, 1,30. Grazie a tutti. Grazie a tutti